C'erano vari presidenti ai quali abbiamo chiesto insomma chi è la favorita, chi sono le favorite per la corsa allo Scudetto, è emerso questo, sentite. La Juve è sicuramente favorita perché ha vinto lo Scudetto come eravamo favoriti noi l'anno scorso che avevamo vinto lo Scudetto, quindi è un po' l'inquanto detentore del titolo. Io intanto vedo una bella Fiorentina, nonostante abbia perso un Napoli, io vedo un Napoli che è partito veramente bene. Vicino alla Juventus io credo che ci siano in prim'ordine tre squadre che sono il Napoli, la Roma e l'Inter. Il Mila a seguito di aver perso grandi campioni sicuramente un po' più lontano. Beh comunque il Napoli è molto cinico, abbiamo visto che l'altra sera forse abbiamo giocato meglio noi e hanno vinto loro, per cui questa determinazione fa sì che possa essere una squadra importante per lo Scudetto. Io credo che i nomi siano ancora Juventus, Napoli, Roma, Inter e forse Milan. Solo la Juve per lo Scudetto oppure c'è anche altro secondo lei? No, non penso. Penso che ci siano delle squadre che hanno le qualità e la competitività per arrivare a giocarsi fino in fondo lo Scudetto. La Roma è una mina vagante, poi c'è il Napoli che ormai non è una sorpresa, però la Juve la vedo ancora avanti come gap dalle altre.